Buonasera, buonasera a tutti. Allora è il caso di dire facciamo festival, diamo il via alla dodicesima edizione del Villamare Film Festival. È stata una decisione convinta quella del pubblico del Villamare Film Festival che durante la prima serata di ieri ha scelto il corto da mandare in finale tra i quattro proiettati. Con quasi il 50% a spuntarla è stato Margerita di Alessandro Grande, un racconto poetico dove uno spaccato di vita quotidiana, un rom alle prese con il suo primo furto, si trasforma in un atto d'amore e poesia attraverso il linguaggio universale della musica. È entrata dunque nel vivo la dodicesima edizione del Villamare Film Festival con il suo pubblico schierato, i primi corti proiettati e la giuria tecnica pronta a sorprendere e a farsi sorprendere dalle capacità narrative dei giovani registi in gara. Penso che oggi ci sia molto bisogno di ricondurci di nuovo alla realtà, credo che anche il cinema e la televisione soprattutto abbiano vissuto oramai 15-20 anni di spettacolarizzazione eccessiva. Il fatto che ci siano dei giovani che si cimentano sul piano creativo nella riscoperta della realtà, questa è una cosa che fa bene a tutti. Sullo sfondo della nuova immagine pensata per rappresentare il Villamare Film Festival 2013, un angolo costiero della cittadina che lo ospita sorvolato da un gabbiano, si sono avvicendati i protagonisti della prima serata. Non sono mancate parole di denuncia per lo stato in cui versa oggi il cinema e la considerazione che registi e film di qualità fuori dai grossi circuiti commerciali riescono ad ottenere. Da alcuni anni in Italia il numero delle cose di ricerca è tutt'altro che inconsistente. Rispetto agli anni 90, cioè al buio totale, c'è una fioritura. E questa è la parte bella. La parte brutta è che questa fioritura non si vede, non la vede nessuno. Perché ci sono fior di film, di esordienti e non esordienti, che sono veramente interessanti, sono tutto invisibili. Allora, la cosa più bella è che la ricerca è ricominciata senza che neanche noi facessimo tanto. È venuta proprio da chi aveva voglia di cominciare. La ricerca però non si vede. Speriamo che le cose cambino in questo senso. Questa riflessione ha dato in là la proiezione del film Billo e il Gran Dacardi, Laura Muscardin, una produzione di buona qualità ma poco conosciuta. Il pubblico del festival, però sempre attento, ha saputo dare il giusto tributo alla pellicola. Poi la prima serata si è conclusa come sempre con un riuscito dopo cinema gastronomico dello chef Pompeo Limongiello. Nuove suggestioni attendono il pubblico per la seconda serata del Villamare Film Festival. Grazie.